numero 5 scarificatore elettrico con un potente motore da 1300 watt permette una regolazione di profondità centralizzata a 5 posizioni il sacco di raccolta ha una capacità di 35 litri la scocca è in plastica permette una sostituzione semplice dei rulli senza utilizzo di utensili ha un manico pieghevole con impugnatura soft grip trovi il link amazon di questo prodotto in basso nella descrizione numero 4 questo scarificatore arieggiatore elettrico è un apparecchio combinato affidabile ad alte prestazioni per aerare e scarificare a regola d'arte superfici erbose di piccole e medie dimensioni fino a 300 metri quadri per un prato più sano e privo di erbacce il potente motore ad eccitazione in serie da 1200 watt eroga una coppia possente per garantire un avanzamento continuo del lavoro e risultati accurati l'apparecchio ha un robusto corpo in plastica resistente agli urti di alta qualità gli otto coltelli doppi in acciaio inossidabile di alta qualità del rullo lame montato su cuscinetti a sfera eliminano alla radice erbe infestanti e muschi in descrizione trovi il link su amazon di questo prodotto numero 3 questo prodotto svolge ben tre funzioni differenti quello della raccolta della rieggiatura e della scarificatura questa macchina per la pulizia del proprio giardino riesce a lavorare anche superfici più ampie è incluso con il prodotto anche il cesto per il raccolto può essere cambiato il rullo senza ricorrere all'utilizzo degli attrezzi quest'ultimo può essere arieggiatore o scarificatore infine il manico regolabile permette di lavorare nella tranquillità più assoluta possibile puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione numero 2 questo versatile arieggiatore per prato elettrico consente di prendersi cura del proprio prato tutto l'anno offrendo una rimozione rapida ed efficace di muschio e residui di erba tagliata le quattro regolazioni in altezza sono facilmente impostabili in un intervallo da più 1 0 a meno 5 mm per una rieggiatura in base alle proprie esigenze raccolta di foglie stivaggio e trasporto il muschio e i residui di foglie vengono rimossi in modo rapido e regolare senza intasamenti grazie alla combinazione tra il potente motore da 900 watt ed il sistema jet collect il doppio manico pieghevole e il cesto di raccolta rimovibile ed impilabile permettono di riporre l'utensile con il minimo ingombro se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo clicca il link in descrizione numero 1 questo modello del marchio matrix vi permette di avere un prato sempre ben curato e in ottima forma si possono effettuare 2300 giri al minuto e contiene un cesto per poter raccogliere l'erba o gli altri elementi la larghezza di lavoro è pari a 320 mm ci sono ben quattro livelli per poter impostare l'altezza e le funzioni che possiede sono due ovvero quella per il prato e quella per gli animali trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video